FAST vuol dire veloce, ma FAST è anche l'acronimo che in inglese identifica quelli che sono i sintomi precoci dell'ictus. Quindi un bambino che vede il nonno che comincia a farfugliare, a dire parole non corrette, non muove un braccio, non è in perfetto equilibrio, piuttosto che non riesce più a articolare nessuna parola, ma è un bambino che è in grado di riconoscere e di poter allertare il sistema sanitario. Bambini supereroi nel riconoscere sintomi dell'ictus e accrescere la consapevolezza di quanto sia importante intervenire tempestivamente. Ad Arezzo ha così preso avvio il progetto FAST-IROS, un'iniziativa internazionale educativo-didattica rivolta agli studenti delle scuole primarie per insegnare bambini a identificare la patologia e agire in modo rapido chiamando il 112. Tenete conto che nella nostra provincia ci sono minimo 500 casi di ictus all'anno e che il 25% di questi non viene adeguatamente né tempestivamente riconosciuto. La campagna prevede che in tutte le scuole della provincia di Arezzo siano messe in campo diverse attività che insegnano ai bambini ad individuare i sintomi più comuni dell'ictus. Quindi un progetto di educazione civica di altissimo profilo, un progetto sanitario anche perché la nostra popolazione sta invecchiando e quindi sono aumentate le aspettative di vita ma dobbiamo lavorare su un migliore stile di vita che passa soprattutto anche attraverso la prevenzione. E poi un progetto didattico importante nello stare insieme, nello spendersi giocando per un principio importantissimo e un'unione anche tra le varie discipline scolastiche poiché il veicolare la lingua inglese nella modalità CLIL ovvero all'interno delle varie discipline e anche attraverso attività di questa importanza rende le nostre bambine e i nostri bambini veramente dei grandi piccoli eroi velocissimi.